Eccoci qua da Novigra in Croazia, l'hotel Laguna, siamo in trasferta con l'orchestra di Renzo Biondi questa tre giorni, questa gita, questa bellissima, ma che bello abbiamo anche, abbiamo questo bel bambino che è il figlio, il futuro Renzo Biondi della musica. Biondino, ciao. Ciao. Ciao, bellissimo. Ma sai anche lui il bambino della Marta, Manuel. Ciao Manuel. Ciao. Ciao, grande. E naturalmente tutta l'orchestra, ma come hai fatto Renzo a farti così voler bene? Ma guarda, io penso che sia merito semplicemente della nostra semplicità, della nostra musica, oltre che il mio dei ragazzi dell'orchestra, voglio un applauso per loro, eccoli qua, il nostro Riccardo, eccoli, mi presentiamo. Abbiamo poi Federico. Ciao. D'altra parte, con il cappellino, la nostra Marta. Marta, Martina, ma vieni la Martina. Mamma, ma perché stavi distante da me? Ma per che? E poi abbiamo anche Franci, ciao Franci, ciao ragazzi dell'orchestra di Renzo Biondi. Ciao. Adesso partiamo. Renzo, senti, io non ti chiedo programmi futuri, però so che avete in mente tante tante cose belle per questo grandissimo popolo di Renzo Biondi. Penso che abbiamo tantissime novità musicali, artistiche, e ragazzi preparatevi perché anche un altro viaggio! No! No! Un altro viaggio! Ma il popolo, il popolo lo sta aspettando, ha fame di viaggi, diamogli i viaggi da mangiare a questo popolo, dategli da mangiare, che vogliono divertirsi perché sanno che con voi si divertono sicuramente. Eh, è un grande divertimento. Sono soldi ben spesi, oh, soldi ma pochissimi, pensate che qua non si paga tanto. Pochi, 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 pochi! Una cosa popolare proprio per essere in tanti con grandi soddisfazioni. No, nella piscina non mi ci vado, no, 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 non si può niente, non si può, non si può niente, non so nuotare, non so nuotare musica e spettacolo, torniamo subito, Marta ti prego difendimi, difendimi.